Stiamo parlando di questa CreaBest 300Ah 3840Wh litio ferrofosfato Questo è l'inverter che mi ha creato non pochi problemi. Buongiorno e ben arrivati in questo canale, mi chiamo Paolo, volevo mettervi al corrente di una cosa che mi è capitata personalmente, della quale sono riuscito a venirne a capo e ve ne parlo con molto piacere. Questo è il mio camper, il nostro camper, camper di famiglia, sul quale abbiamo, dopo varie riflessioni e varie valutazioni, sia online che personali, che anche con il contatto con ditte che fanno questi lavori, siamo passati anche noi al litio. Il litio, come sapete, è una tecnologia molto molto innovativa, nuova, ma che non nasconde problemi, problematiche. È una tecnologia alla quale bisogna prestare molta, ma molta attenzione. Non è tutto orocolato quello che vi viene detto, e per questo adesso capirete il motivo di questo video. Praticamente, cos'è successo? Ci sono tantissime ditte che producono batterie a litio, sistemi a litio, ma in questo caso io parlo della batteria a litio. Praticamente, promettono cose mostruose, ma alle volte non è sempre così, o meglio. Non sempre si riesce a ottenere quello che si vuole. Scusate, vi elenco brevemente quello che è successo, per non essere noioso, e in un futuro video che farò, vi farò vedere l'elenco di tutte le cose che abbiamo fatto. Io devo ringraziare personalmente la Crea Best, perché mi ha veramente, ma veramente ve lo dico col cuore in mano, mi ha, e non è sponsorizzato da nessuno, perché come vedete non vi faccio vedere cartelli, niente, vi posso solamente garantire che mi ha tolto le castagne dal fuoco, e vi spiego il perché. Io ho un inverter NDS 2000 Watt, quello con il circuito di priorità, ma di sicuro sapete qual è. Prima delle batterie a litio, avevo due batterie AGM, da 100 A cada una, che come sapete benissimo, non si può, non si possono sfruttare più del 50% della loro capacità, perché altrimenti vanno in sofferenza. Mentre la batteria a litio, si può praticamente, te la garantiscono, che la puoi sfruttare al 90%, di conseguenza io con due AGM da 100 Watt cada una, praticamente un totale di 200 A, ne avevo 100 sfruttabili. Mentre adesso con la batteria da 300 A ora a litio, posso sfruttarne 2,90. Capite bene che è una grossa, ma grossa, innovazione. Però, cosa succede? Le batterie a litio, cosa che magari non tutti vi dicono, e io ho provato sulla mia pelle in questo momento, sono molto, ma molto delicate, nel senso che, avendo, come nel mio caso, ma anche in altri casi, la mia ha il BMS interno, altre hanno il BMS esterno. Cos'è il BMS? Il BMS è quello strumento elettronico che gestisce in totale autonomia le batterie, appunto, sia in spunto che in ricarica, che in sicurezza, perché se carichi troppo con corrente troppo alta te la limitano o la staccano, se consumi troppa corrente rispetto a quella che può darti la batteria te la staccano. Insomma, questo BMS, nel bene e nel male, è il cervello elettronico della batteria. Tutta questa prefazione per dirvi cosa? Che io, purtroppo, ho riscontrato con il mio inverter, che sono venuto a sapere anche dalla stessa NDS, che gli spunti che hanno questi inverter in fase di accensione, cioè la prima accensione, praticamente quando i condensatori, che sono di grossa capacità in questo mio caso, che è 2000 Watt, si accendono per la prima volta, hanno di quei picchi di corrente che arriva oltre i 600 A di picco. E questo, purtroppo, non tutte le batterie riescono a sopportarlo. E in effetti, questo mi provocava lo spegnimento della batteria che avevo acquistato. Non mi sono disperato, anzi, ho chiesto consiglio anche al ragazzo che mi ha fatto, che dopo di questo vi potrò mettere il link in descrizione dove sono andato a farmi i lavori. Mi ha detto, sì, guarda Paolo, che le batterie, purtroppo, hanno queste limitazioni. Bisogna stare attenti, ovviamente ci sono quelle più performanti, quelle meno performanti. E da questo cosa è dovuto? È dovuto anche da quanto tu spendi. Io, sinceramente, essendo vivo della mia pensione, attualmente non ho grosse possibilità, ho scelto una batteria, diciamo, meno costosa rispetto ad altre e forse questo mi ha provocato questo problema. Che però, come ripeto, grazie a CriaBest, adesso non ho più. Cos'è successo? Ho acquistato la batteria, mi faceva questo problema, ho subito contattato l'assistenza e devo dire che quasi, quasi proprio immantinente, come mandavo la domanda, ricevevo anche risposta. Alla fine, proprio per farvela breve, breve, ho rispedito la mia batteria, che avevo acquistato, me ne hanno rimandata un'altra, aggiornata, hanno aggiornato praticamente il BMS interno e adesso questo problema non si crea più. Perché? Si sono resi conto che l'inverter che ho, appunto, l'NDS, da 2000 Watt, aveva dei picchi di corrente che la loro batteria non supportava. Facendo questo aggiornamento, mi hanno sistemato il tutto. E adesso vi faccio vedere e sentire che quello che sto dicendo non sono stupidaggini. Vedete? Questo è il mio telefono. Portate pazienza, non sono tanto bravo a condividere lo schermo. Questo è il mio telefono. Questa è l'applicazione CriaBest. Io la accendo. Adesso, vede, l'ha trovato via Bluetooth la batteria. La clicchiamo. E come potete vedere, si sta aggiornando. Vedete? 91% di carica. 270 A, 273 A disponibili. Voltaggio 13 volte 4. Corrente 2 A, perché sta consumando il, come si dice, la corrente per funzionamento normale del sistema del camper. Zero cicli di carica. Ci sono zero gradi. Dunque è freddo. Le celle sono bilanciate e non c'è nessun errore, come potete vedere. Io adesso accendo l'inverter. Sentirete il TAC. Scusate se si spegne il monitor. Avete visto? La batteria non si è staccata. Ha tenuto perfettamente l'accensione e non c'è nessun errore. Questo tramite CriaBest, che posso solamente, come ripeto, ringraziare. Adesso lo rispengo, l'inverter, perché non mi serve. Ecco, tutto questo per dirvi che, metto via il telefono, scusate. Tutto questo per dirvi che bisogna sempre avere molta attenzione e preoccuparvi di quello che state acquistando. Chiedete al venditore o chi vi propone le batterie o qualsiasi altra cosa, le caratteristiche per non avere appunto un domani, come è successo a me, ma che ho brillantemente risolto grazie veramente di cuore alla CriaBest. E come ripeto, questo video non è sponsorizzato da nessuno perché l'ho pagata, me l'hanno solo consegnata e basta. Scusate, è arrivato un messaggio e l'ho pagata con i miei soldi, senza neanche uno sconto, anzi, lo sconto c'era perché era Natale, ne ho approfittato. Una 300 ampere come la mia, che è tutta in metallo, tra l'altro, viene 1.400 euro, che capite benissimo, che è molto ma molto concorrenziale. Sono veramente contento perché tutti i test che ho fatto con il fond di mia moglie, che sono 1.300 watt, la gestisce tranquillamente e, anzi, non ha nessun problema. Ma dunque, diciamo, sono veramente contento di aver risolto il problema. Io per il momento mi fermo qui, volevo solo appunto farvi questo video per mettervi al corrente di quello che può succedere con una batteria che magari non è di prima fascia di prezzo, ma che magari dalla quale ci si aspetta grandi cose, quando potrebbe succedere quello che è successo a me, che dopo magari si risolvono però, sono da valutare appunto, se uno fa un impianto nuovo, valutare l'inverter. C'è una serie di considerazioni da fare, che a meno che uno sia un esperto, come io non lo sono, ho dovuto fidarmi di persone qualificate che mi hanno risolto questo problema. Spero che vi sia stato utile. Vi chiedo anche gentilmente, se volete, se questo video vi è sembrato utile, iscrivetevi al canale, perché adesso farò un altro video, nei prossimi giorni, farò un altro video di tutto quello che abbiamo installato nel camper, appunto per poter sfruttare le batterie al litio, perché con la batteria al litio ci vuole una serie di strumentazione che non è la classica, che potrebbe andare bene per le batterie al gel o quello che è, al GM o piombo, quello che è. Se state sintonizzati, mettete pure un like se vi è piaciuto e il prossimo video vi farò vedere appunto tutto quello che è stato installato. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e buone feste, perché siamo sotto le feste, e alla prossima!